Ciao a tutti, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovo video su DrogboLegends Oggi siamo qui per pullare sulla nuova Step Up Summon Infatti da poco è stata giunta questa nuova modalità di summon su DrogboLegends Proprio per dare, credo, alla possibilità ai player di trovare sparking garantite E quindi quando anche su Dock è tipo il primo giro scontato Così da avere sparking assicurate Quindi richiamoci subito su summon Come vedete è questo il nuovo banner Dato che questi sono altri banner che ci sono Ma va bene E vediamo chi c'è come sparking Vediamo che c'è il nuovo Mr. Satan, vediamo la special Vi dico che queste Step Up Summon sono molto convenienti Quindi vi dico di farlo il giro Costo più o meno 4100 cronocristal Costa un bel po' però Questo è il nuovo Mr. Satan Proviamo il nuovo Grande Mago Piccolo Proviamo, vediamo la speciale del Grande Mago Piccolo E speriamo di trovarlo naturalmente È proprio così semplice e easy Vabbè E andando ci sono anche altri sparking Come vedete ci sono parecchie sparking E' anche molto buono Io l'unica che vorrei Cioè l'unica che non voglio Intanto c'è anche il nuovo Grande Mago Piccolo Extreme Allora l'unico che non voglio È Broly Basta che ce l'ho 5 stelle Basta Lui lo vorrei molto Lui meh Lui no Grazie gioco E vabbè Questi sono i nuovi sparking Vediamo intanto come funziona la Step Up Summon Come potete vedere Lo Step 1 costerà 100 cronocristal Eviterà solo 3 personaggi Lo Step 2 costerà 300 cronocristal Eviterà 5 personaggi Mentre lo Step 3 costerà 700 cronocristal Eviterà 10 personaggi Così come potete vedere Con 1000 cronocristal Potete avere 18 personaggi Rispetto alle 1000 cronocrist Che uno avrebbe usato Per 10 personaggi soltanto Quindi è molto conveniente Poi verso la Step 4 Vi daranno un ticket Questo ticket è sparking garantito Quindi buono anche questo Poi Step 4 Mila Vabbè Queste Step 4 e Step 5 Sono delle summon normalissime Poi Step 6 Vi daranno una multi free Buono Poi vi daranno un ticket sparking E le Step 7 Un'altra multi free Quindi ragazzi Cioè Ve lo consiglio Almeno fate fino allo Step 3 Vi daranno il ticket sparking garantito Sono 1100 cronocristal Si 1100 cronocristal Avete 18 personaggi E uno sparking garantito Quindi Molto conveniente E intanto Pulliamo Vediamo cosa riusciremo a trovare Spero Non in broli Come vi ho detto Vabbè Vabbè Queste sono tipo Le multi dei poveri Perché C'è solo tre personaggi Vabbè Tutti schivano Qua Pull normale Sì Vabbè Goku addirittura Subisce La Mossa di Cioè La supernova Qua Vabbè Bello schifo Prossimo 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 Nemmeno una navicella Vabbè Oh Cazzottoni Oh Pull dorato Dorato Rosso Vai go Goku Fai schifo Nuovo Cell Extreme E porto Crillin 5 stelle Oh mio Dio Vabbè Ok ora Dopo questa consecutive Summer Ci darà il ticket Sparking garantito Quindi almeno Una sparking garantita Eh Tre navicella Questo è lo schifo proprio Oh Super Sam Zitti 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 Tutti No Goku Ho scazzotto Eh Pura Argentato Eh Goku Fai schifo Sì Sparking Vai Vegeta Oh Eccola Sì Grande Mago Piccolo Nuova Sparking Oh Un'altra No Pai Qua No Dai Pai Qua No Ce l'ho 5 stelle Adesso No Ok Ok adesso Lo step 4 Ci darà il ticket Quindi Anche lo step 7 Facendola Consecuti Summer Vi darà il ticket Oh Super Saiyan Dai 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 Mi go Quello Viola No Di nuovo Pegito No Ma Proprio Schifo Sta Multi Madonna Intanto Abbiamo trovato il nuovo grande mago piccolo extreme Vabbè G Ticket Sparking Garantito Andiamo avanti E il crono crystal Se ne vanno Una mech Super Saiyan Dai Fai schifo Goku Ha tirato una lagga Oh Un rosso Goku Fai schifo Oh Sparking Già ce l'avevo Dai Dammi i coin Viola L'ho cercato così tanto Ah Poi Tutte Hero Minchia Una Multi Tutti Hero E una Sparking Vabbè Volè Questa è la Multi Free Dopo questa ci sarà un'altra da 1000 Con lo ticket sparking garantito 3 4 5 Pod Goku Rimane schifo Base Schifo Ma gogo ma dai Un cazzotto Oh Pur rosso Dai Vai Sì Grande Goku Sparking Garantita Oh Eccola No Un altro grande mago piccolo No Dammi il mister satana a sto punto Se me ne volete una nuova Oh Un'altra Sì Con viola Sì Madonna Che fortuna Sì L'ho trovato Finalmente Eccolo Madonna Quanto è bello Eccolo A Ciao Ademi se Questa clip Bon Cioè Questa clip in più Cioè Il programma di Rec Su Legends Mi si è tipo Buggato E non mi ha fatto registrare Gli ultimi due ticket I due ticket Sparking Garantito E vi dico Soltanto Che ho trovato Un altro SLSTR Che ho portato A tre stelle E ho trovato Un altro grande mago piccolo Che ho portato A quattro stelle Quindi Non è che mi è andato Malissimo Quindi Spero che Il video vi sia piaciuto Scusate per questo imprevisto Ma purtroppo L'applicazione ha deciso Di non registrarmi La parte finale Ma va bene Mi raccomando Scrivete sotto nei commenti Voi cosa avete trovato E se questa cosa Delle step up summon Che hanno aggiunto Vi possa piacere E vi interessa E quindi noi ci vediamo Ad un prossimo video